Contro la Costituzione violentata, contro un Italicum che tanto sa di Porcellum. Nasce il Comitato SOS Democrazia, Mestre, un gruppo di cittadini, così si definiscono, al di là delle appartenenze politiche che semplicemente ritengono la nuova proposta di legge sulla riforma elettorale assolutamente inaccettabile, visti i premi di maggioranza e, cosa non da poco, che non terrebbe conto del forte astensionismo a cui si va incontro alle prossime elezioni. Riteniamo che questa legge elettorale, prima di tutto, non ponga nessun correttivo rispetto al Porcellum, anzi, ci siano degli elementi di criticità molto più consistenti. In pericolo, fondamentalmente, c'è la rappresentanza democratica di questo Paese. Un colpo di mano, dunque, secondo il Comitato, che nell'Italicum non vede certo il diritto dei cittadini al voto democratico, ma in buona sostanza è un modo per preservare la poltrona. E sulla scia del motto renziano del fare, il Comitato ha deciso proprio questo, cominciando con due incontri, uno domani alle 16.45 al municipio di Mestre, dove interverrà Domenico Gallo, giudice presso la Suprema Corte di Cassazione, e un altro al 21 alle 17.30 a Caffarsetti, con il professor De Fiores, docente di diritto costituzionale. Ma le azioni non si fermeranno qui. Un passo alla volta per far capire, ma com'è possibile che la Corte Costituzionale si sia resa conto dell'incostituzionalità del Porcellum, per cui hanno governato per anni, e vorremmo fare in modo che l'Italicum non venisse approvato con un governo che duri 3-4 anni, poi la Corte Costituzionale decide, ma siccome sta roba è incostituzionale, abroghiamo tutto.